Eccoci qua a voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. Cari amici andiamo subito a vedere cosa accadrà nella giornata di sabato. In linea generale sul nord ci sarà un miglioramento parziale, ma appunto parziale. E indovinate quale sarà la zona penalizzata? Il nord ovest, il Piemonte, il Piemonte più occidentale. E guardate, al mattino piovaschi sparsi, piogge sparse sul Piemonte, un po' dappertutto. Andrà meglio sulla Lombardia, sulla Liguria. Però guardate, nella seconda parte del giorno insisteranno le precipitazioni, abbiamo detto, soprattutto sul Piemonte occidentale e quindi anche sulla Val d'Aosta. Procedendo verso est, tempo un po' più tranquillo, anche se comunque nuvoloso, molto nuvoloso. Poi poco nuvoloso sulla Lombardia. Temperature che non faranno registrare, guardate, grandissimi cambiamenti. Purtroppo questo ponte, questo weekend, sta trascorrendo nel peggiore dei modi. Però quantomeno non fa freddo. Io per ora ho concluso, cari amici di Rete7, noi ci riaggiorniamo come sempre nel prossimo appuntamento. Seguiteci, ma lo so, siete sempre in tanti. Arrivederci.